Ciao, sono Marta Viola e questa è la mia Masterclass di Editing e Costruzione Narrativa. Una singola immagine può essere rappresentativa, anche da sola, di un fenomeno complesso. Il legame emotivo che noi strutturiamo con la realtà lo riversiamo nelle immagini. Quanto ho parlato più o meno? Solo. In questa sezione affronteremo nel dettaglio il processo di realizzazione e anche di selezione delle immagini. Mi avvio alla conclusione.